Ciao a tutti, il mio nome è Maria Luisa, ho 58 anni, vivo in Italia, Toscana, e sono infermiera da circa 40 anni e da 30 anni ormai sono affetta da una situazione di salute poco piacevole purtroppo, che mi costringe a prendere cortisone 25 mg al giorno appunto da 30 anni. Questa situazione ed un sacco di altre problematiche mi hanno portato a cercare chi sono, da dove vengo e dove vado, e anche trovare una soluzione a questa problematica che ho da tempo. Scusate, guardo gli appunti perché ho scritto tanto tanto, e appunto cerco qualcosa che dia sollieva la mia anima e per mia fortuna sul web ho avuto la possibilità di conoscere il MedBed, e ancora più fortunata sono stata nel conoscere Anna, una splendida persona che mi ha fatto fare lo step per poter contattare finalmente e conoscere il progetto 9010 MedBed. Ho contattato, sono entrata nel sito e ho seguito le indicazioni che mi sono state date, ho praticamente in due giorni tradotto tutto il corso, me lo sono bevuto letteralmente, e ho cercato di capire quello che potevo dai video perché non ho un inglese splendido. Dopodiché ho fatto le foto del mio letto, le ho caricate sul sito, e ho provato una profonda emozione nel vedere il video del MedBed in azione. Mi sono sentita profondamente grata e commossa, ho pianto veramente tanto nel vedere questo letto in azione. Ecco, l'ho proprio sentito in maniera intensa, e quindi ho voluto tutta me stessa provare quello che poteva darmi. Ho deciso di fare la sessione il 15 luglio, sera, e il 15 luglio sera stesso infatti mi sono coricata verso le 11, e mi sono un po' calmata perché ero molto agitata dalla novità, da questa cosa immensa che mi era capitata. E dopo che mi sono calmata verso le 11 e mezza ho pronunciato mentalmente, seguendo appunto gli step che mi erano stati suggeriti nel corso di formazione, 90-10 MedBed in silenzio perché dormo con mio marito, ovviamente non potevo parlare a voce alta. E da lì è arrivata una bellissima sensazione di effervescenza, di freschezza, che ha pervaso tutto il mio corpo. La mia pelle era tutta un formicolio, tutta un... come se fosse un soffio vitale, un qualcosa che mi rigenerava e mi rivitalizzava. E dopo dieci minuti ho chiesto sempre mentalmente a MedBed di scannerizzarmi, ho chiesto scanmi, e nello stesso tempo ho iniziato partendo dal corpo mentale ed arrivando al corpo fisico di andare dove fosse più necessario a portare questa energia quantica che potesse portare appunto giovamento a tutto il mio corpo, a tutta me stessa. Che dire, durante appunto il... Sto sfogliando il quaderno, scusate. Durante il trattamento che ho fatto ad occhi chiusi ho avuto delle visualizzazioni intense, quasi come se potessi toccarle. E ho visualizzato dapprima la scena di un bambino con un cappellino bianco insieme al nonno e aveva il cappello anche lui. Si trovavano in montagna circondati di prati verdi immensi, bellissimi. E dopo questa scena è arrivata una maschera tribale rossa con dei capelli biondi che aveva dei grandi occhi spalancati in un'espressione come di guerra, di rabbia, di aggressività con la lingua che usciva ed entrava dalla bocca ritmicamente. Come ritmicamente sentivo il fischio nelle orecchie che aumentava e decresceva. E inoltre ho anche visualizzato sempre da chi chiuse un cerchio di luce iridescente che andava e veniva, si allontanava e si avvicinava. Era una luce gialla, era luce. E inoltre sentivo molto lavorare sul mio primo chakra. Ho sentito espandere il mio corpo e sono state sensazioni molto positive. Dopo questa maschera tribale invece sono arrivate due figure come se fossero degli alieni con gli occhioni a mandorla che mi stavano osservando e mi stavano osservando e sembrava che si consultassero tra loro guardando appunto come funzionasse questa... Era come se si chiedessero come funzionava questo tipo di situazione, diciamo, questo tipo di cosa. Mi è sembrato di capire questo. E questi alieni avevano delle ali e niente, si guardavano in continuazione e parlavano. E inoltre... Che dire... Dopodiché niente, probabilmente mi sono addormentata e mi sono risvegliata il giorno dopo alle sette e mezza e... Ah, chiedo scusa. In nottata mi sono alzata una volta dicendo stop 90-10 mad bad come mi era stato suggerito appunto nel corso. E poi sono tornata a letto e gli ho detto 90-10 mad bad, per favore riprendiamo da dove abbiamo sospeso con i comandi. E mi sono riaddormentata e mi sono svegliata la mattina successiva appunto alle sette e mezza e mi sono alzata curiosa e gioiosa di scoprire quello che... Quello che era arrivato. Sono proprio inondamente convinta che questo... Che questo tipo di sessione abbia portato dei miglioramenti e sicuramente ho una mente molto meno rimuginante rispetto a prima e sento che qualcosa di me se ne è andato qualcosa che non... Che non era utile che non mi serviva e che... Come se fossi alleggerita. E niente, ringrazio... Ringrazio tutti per la pazienza di avermi guardato ascoltato e ringrazio veramente di cuore le persone che hanno messo a punto questa... questa... questa possibilità questa... questo... questo miracolo alla portata di tutti. Grazie infinitamente di cuore a tutti quanti. Ciao!